300 metri quadri di terrazzo, sì, tutti distanziati, tutti distanziati, potete anche chiamarle, tutti distanziati, tagga cuccia, tagga cuccia Ma come è che c'è stagione di parabola da subito, se prendi poco segnale? No, perché sull'attico Sull'attico, eh, non duri, eh Oh, ma vedi che c'è pure, eh No, boss Una là, l'altra c'è anche il telefono Bratelli, ma il cazzo l'ha inventato, bratelli Non ho capito, ma per sta merda di remix, perché? Per fare un remix americano è una merda, perché mi devo fare un remix americano Ma poi, per farmelo... Per farmi uscire il tuo video del cazzo, su, cioè dopo, ah dopo il mio proprio, cioè, manca a fare la posta proprio, per far uscire il tuo video del cazzo dopo il mio che non c'entra nulla Quanto cazzo ci avete buttato dei sponsor, oh? Cioè, ma ci butto pure io Scusa, scusate, no, non si esci, non si esci, siamo in quarantena, noi siamo in quarantena, vedete, è una nuova piazza questa, con vari gruppi, tutti a distanza di metri, cioè, comunque, c'è spazio ancora libero Cioè, non, 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 non,